Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce io sono Enrico Cereda e sono pittore paesaggista. Ho appena terminato questo quadro che ho realizzato ad olio su una tela 35x50. Se volete capire come l'ho realizzato, seguite attentamente i vari passaggi del video e vi ricordo di iscrivervi al mio canale per essere aggiornati sui prossimi video. Buona visione! Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti